Ciao, sono Lorenzo Trapani, ho 20 anni, sono di Domodossola in alto nel Piemonte e frequento il primo anno accademico di Fashion Management e Sistema Prodotto Moda. Ho scelto Fashion Management per unire la mia passione per la moda, la mia passione per il marketing e la comunicazione. Uno dei motivi principali per cui ho scelto Accademia è l'approccio one-to-one che c'è tra professori e studenti. Altro elemento cruciale della vita in Accademia è la professionalità dei docenti e l'esperienza che tutti i giorni portano in classe. Molto importante da citare sono i talk che avvengono qui in Accademia, momenti in cui grandi esperti del settore vengono a portare la loro esperienza, altri progetti molto interessanti, la creazione di una start-up in cui si può mettere al 100% la propria creatività e le proprie idee in un progetto. Tra le cose migliori di questo primo anno è l'esperienza di conoscere tante persone nuove, ci si sente un po' in una famiglia, ci si sente a casa, ci si sente seguiti, si respira una passione comune per lo stesso ambito. Ci vediamo in Accademia!